Ciao, nel video di oggi vi faccio dare una sbirciatina all'interno del nuovo mobile che è arrivato da Ikea sabato ci eravamo lasciati con l'arrivo del mobile, vi faccio vedere come l'ho sistemato Buongiorno, iniziamo questo vlog da qui domenica mattina e da questo vlog mi devo abituare a nuovi orari e ad essere un pochino più veloce con la registrazione e con l'editing, parte la corsa perché da domani inizio scuola di danza quindi andando a lavorare nel pomeriggio io devo avere il video pronto del lunedì prima di pranzo il che vuol dire che oggi devo registrare tutta la giornata e domani devo editare vediamo che cosa riuscirò a fare è arrivato il mobile dell'Ikea, ve lo dicevo alla fine dello scorso vlog dopo vi faccio vedere come sta in camera e come l'ho sistemato in realtà mi aspettavo che fosse un po' più alto avevo paragonato le misure della scrivania con quelle del mobile dell'Alex però non lo so che cosa ho fatto, ho guardato male perché c'è un po' di dislivello quindi adesso mi ritrovo con la scrivania dove c'è il computer più alta rispetto al mobile ma poco importa, cioè mi piaceva vedere il piano uguale ma fa niente quello che conta è che adesso tutti i materiali per la sublimazione, per le personalizzazioni belli in ordine bellissimo il mobile e le tazze ci sono andate perfettamente perché poi quando è arrivato ho detto mo se le tazze non ci stanno come altezza io dove cavolo le metto invece no, è andato tutto perfettamente bene adesso è tutto in ordine mi manca solo di prendere ora il mobile per le stampanti perché ho quattro stampanti e sono sistemate a cavolo proprio c'è il problema che il profumo di mobile nuovo mi ha fatto venire una voglia di rinnovare tutto di rinnovare la craft room, di rinnovare in casa mi è venuta una voglia pazzesca ma non è il momento, ma non si può fare e anzi ve lo chiedo proprio all'inizio del video giù nei commenti scrivetemi scarlet non è il momento forza e coraggio scrivetemi giù così mi ricordate che non è il momento di spendere soldi per questo ma io non lo so, a voi piace l'odore dei mobili nuovi a me fa impazzire quell'odore di solo quel mobiletto mi ha fatto venire voglia di cambiare questo mobile qua di cambiare tutta la camera da letto di cambiare tutta la craft room adesso prenderei tutte scrivanie nuove, bellissime non si può fare non si può fare adesso mi vado a preparare sono qua, ho appena rifatto l'abbonamento a spotify perché iniziando a lavorare io l'anno scorso ho fatto scuola di danza con spotify non ho avuto problemi, tutte le canzoni che volevo le avevo quando non c'era internet si sentiva comunque la musica non avevo rotture di pubblicità e cose varie quindi vale la pena di spendere 11 euro al mese dedicati solo alla scuola di danza però adesso sto, lo so, dici ti sei deciso all'ultimo momento sì perché l'ho usato un pochino come come azione scaramantica quella di non preparare le lezioni prima che la scuola fosse pronta perché abbiamo avuto abbiamo avuto gli avuti Giorgio però per me sono problemi anche miei a trovare il posto poi ne avevamo trovato uno poi all'ultimo momento ci hanno fatto stare tutta l'estate sì adesso iniziamo i lavori adesso iniziamo i lavori dopo ferragosto non ce ne ho parlato proprio quindi abbiamo dovuto trovare un altro posto all'improvviso insomma come azione scaramantica non ho fatto l'abbonamento a spotify e non ho preparato le lezioni proprio fino all'ultimo momento adesso però per non arrivare io le mie lezioni di danza quelle che preparo io sono martedì quindi ho domenica e lunedì per preparare le due lezioni più piccole e più grandi non proprio perché all'inizio dell'anno io non arrivo proprio già sparata con la lezione pronta arrivo con le musiche pronte poi in base a chi mi trovo di fronte a chi si iscrive all'inizio faccio il lavoro adesso mi vado un pochino a sistemare dovrei mettere il semi permanente ma non lo so se lo faccio perché Francesco mi ha promesso che se si sveglia presto mi porta alla discarica perché ancora comunque io devo svuotare devo finire di svuotare giù mi sembra che più cose tolgo più ce ne sono da togliere ogni volta che scendo giù mi prende vabbè vediamo se Francesco si sveglia vado lì se no mi metto un pochino a lavorare anche perché io entro oggi dovrei finire un album di figurine e dovrei anche lavorare finire di lavorare a calendario dell'avvento che mi sa che non riesco a farlo uscire per il giorno 4 vediamo se no nel giorno 4 sarà comunque in settimana fine settimana vediamo non so se forse è il caso di farlo uscire proprio fra sabato e domenica che sono i giorni in cui spendete più soldini online vediamo come va la settimana ma anche perché avevo ordinato delle cose per il packaging ma non so nemmeno se arrivano in tempo vedremo in settimana restate sintonizzate adesso vi faccio vedere il mobile sto facendo una prova di registrazione con uno dei miei regali di compleanno quando finalmente riuscirò a farveli vedere capirete il mobile è qui ovviamente altro dei miei regali di compleanno vedete è più basso rispetto alla scrivania però insomma poco importa è anche ha lasciato anche abbastanza spazio quindi volendo posso recuperare spazio di là però questo vedremo quando arriverà cioè quando riuscirò a comprare il mobile per le stampanti perché in questo momento le mie stampanti sono in questa condizione una è qui una è qui una è qui e l'altra è qui quindi urge che io metto in ordine lì comunque questo è il mobile il mio Alex mi faccio vedere al volo come ho sistemato le cose nell'ultimo cassetto ho messo le tazze che sono la cosa più pesante vedete come ci vanno carine eh forse devo ecco in questo modo si vede meglio qui ci sono le tazze poi qui ci sono altre tre tazze e le borracce che sono appena arrivate e devo iniziare a provare a farne una me ne farò una io per la scuola di danza vediamo come vengono qui c'è il bicchiere termico che vi avevo fatto vedere qualche giorno fa poi all'altro cassetto ancora ho messo i puzzle i mousepad le pochette diciamo ci sono sia queste e sia queste questi sono gli astucci poi qua ci sono tutti i portachiavi rettangolari e rotondi qua c'è quella sacca che avevo preso che non so se è utilizzabile e qua c'è il mousepad enorme devo ancora fare la prova poi qua sopra non c'è niente qua credo che in realtà vorrei provare a mettere le carte in formato 3 che ho nel mobile di là e che stanno un po' strane ho i tappetini posso mettere dopo vediamo se c'entrano i tappetini della silhouette qui ci sono bodini e bavaglini e qui ci sono queste sono matitine colorate che mi sono rimaste da dei regalini di compleanno che avevo fatto eccole qua matitine colorate queste sono le matite quelle che personalizzo eccole qua la carta forno che non deve mai mancare per la sublimazione queste sono delle forbici che uso per stoffa non sapevo dove metterle e le ho messe qui perché le forbici ognuna deve avere la sua funzione se hai una forbice hai delle forbici che usi per la carta non le devi usare per la stoffa e viceversa qui ci sono i nastri termoresistenti adesso uno è caduto ok qua c'è un termovinile questa è la carta per la sublimazione e sotto adesso non mi fate spostare che è una mano sola c'è un'altra carta di trasferimento termico questi invece sono dei fogli con già stampa sublimatica che devo ancora provare in realtà non li ho nemmeno guardati perché gli altri dovrebbero essere anche diversi questi vanno ancora provati e questo è il mio mobiletto niente i tappetini della Silly lì ce li ho provati ma non ci stanno perché sono più lunghi quindi dovrò trovare un altro posto ai tappetini e capire cosa mettere in quel cassetto vuoto ma forse è meglio lasciarlo vuoto perché ci sono altre cose che vorrei altri oggetti che vorrei prendere per la sublimazione quindi forse è meglio lasciare un cassetto vuoto buongiorno siamo lunedì mattina sono le otto e io sto letteralmente facendo una corsa contro il tempo perché devo finire un album di figurine oggi è la festa dei nonni serve per oggi ma non è colpa mia questa corsa contro il tempo mi è stato chiesto veramente all'ultimo minuto questo album e quindi ho accettato in via del tutto eccezionale di farlo semplicemente perché la nonna è in questione mia madre quindi l'avrei fatto comunque credo all'ultimo minuto per dare precedenza agli altri clienti ieri ho fatto la grafica che è la parte più lunga perché sistemare tutte le foto per le figurine è davvero una parte lunghissima spero in mattinata di riuscire a fare tutta la stampa sono pronta per farla tra l'altro devo anche uscire per consegnare alcune cose mi concentro e cerco di fare al volo non avete idea di che mattinata stamattina proprio al volo e al cardiopalma però sono riuscita a finire l'album questo è ti amo nonna eccolo qua le figurine sono dietro sono andata a consegnare le cose che dovevo consegnare incredibile come per cercare parcheggio stamattina io abbia perso un'ora di tempo un'ora di tempo solo per cercare il parcheggio poi per consegnare le cose ci sono voluti cinque minuti contate vabbè comunque questa è fatta io adesso mi posso rilassare un attimo rilassare per modo di dire nel senso che non ho fretta ma devo andare ad editare il video perché oggi si comincia scuola di danza quindi questo video va editato subito anche per vedere se va bene come contenuto nel caso chiudo e sono tranquilla prima dell'ora di pranzo mi sono cambiata intanto però mi è venuto da dirvi una cosa e comunque questa è proprio mia madre cioè voi che mi seguite Laura c'è Ida che ogni tanto guarda i video lo scrivete giù e confermate che questa è proprio mia madre è mia madre e ci ritroviamo come al solito qui alla fine del video davanti all'editing del video stesso per i saluti finali io poco fa ho dovuto staccare al volo perché mi si era scaricata la batteria della fotocamera non si è ancora ricaricata ma ho fretta di chiudere il video infatti sto riprendendo con lo smartphone e vi stavo facendo vedere l'album di mamma ma mi sono resa conto che non vi ho fatto vedere la tazza vi metto qui delle riprese che avevo fatto proprio della tazza in sé ma sono dimenticata pure di prenderla vi faccio vedere anche la confezione che ho preparato per le tazze le tazze arriveranno confezionate in questo modo ovviamente poi ci sarà tutto l'involucro qualora le dovessi spedire particolare però per ora la confezione delle tazze è questa ho fatto il file da sola alla silhouette mi sto divertendo tantissimo a fareste i file i file di taglio comunque la tazza è questa adesso possiamo veramente chiudere io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino che è importantissimo così che io possa salutarvi per questo video è tutto se vi va ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacio ciao ciao